Ciao carissimo, vedi come mi abbaglio quando esco, divento tutto sbrilluccicante e poi ritorno normale, solo un flash E' pomeriggio quindi buon pomeriggio, pomeriggio perché stamattina la piccola Laura è partita Mi ha lasciato da solo in questa valle di lacrime per 20 giorni e al di là che è partita mi tocca pure lavorare da oggi Che non è una bella cosa raga, non è una bella cosa Solo ancora no perché ancora per 5-6 giorni ci sono Davide e Diana con me Davide è meglio noto come il buon Dave, quindi non sono del tutto solo ma lo sarò a breve fino al 10-11 di gennaio, adesso non ricordo Ma allora, secondo te, io stamattina che ho fatto un po' di sbattimenti, ho accompagnato Laura eccetera eccetera Secondo te, il buon Dave è stato con le mani in mano? Impossibile, adesso ti faccio vedere quello che ha combinato Allora, come prima cosa ha concluso le sue fluttuazioni qui, guarda adesso com'è tutto bello ordinato Tutto chiuso, fascettato, pulito, manca solo da fissare il trasformatore della Bluetti AC200 Max Ma prima dobbiamo fare dei test che tra l'altro ti mostrerò più tardi Ma non solo questo, ti ricordi che ieri qua abbiamo fatto il vano bombola, no? Che quindi eravamo cabriolet, guarda lì nell'angolo Tac, pronto il vano bombola, te lo faccio vedere da dentro e adesso te lo faccio vedere anche da fuori Eccolo, tac, una scatola raga, con i suoi montantini Manca solo il pezzo sopra che abbiamo già pronto, abbiamo già tutto sigillato col silicone color legno Perché il vano bombola deve essere sigillato, deve essere isolato diciamo dall'interno della cellula E abbiamo fatto anche il foro di aereazione, eccolo qua Che va da sotto a sopra, ovviamente anche questo serve per il ricircolo nell'aria nel vano bombola Abbiamo recuperato questo pezzo di tubo arancione, sai di quelle tubazioni, no? Che ci sta perfettamente dentro Adesso gli do una spruzzata col nero perché questo arancione non mi piace Lo sigilliamo con il Sigaflex Poi sopra e sotto gli andiamo a fissare due pezzi di retina metallica a maglia stretta In modo che nulla cada da dentro a fuori Eventualmente è nulla, entri di schifo da fuori a dentro Vabbè, montiamo il top, finiamo le ultime sigillature Ma la bombola ci sta la grandissima, resta anche dello spazio qui, diciamo nell'angolo qui Dove si può mettere qualcosa, direi ottimo veramente Quindi questi sono i progressi di stamattina Attendiamo il buon Dave e vediamo cosa facciamo nel pomeriggio Sicuramente completiamo il pezzo sopra di questo vano bombola E poi vediamo cos'altro ci possiamo inventare Allora, mentre aspettiamo il buon Dave Voglio prendermi 5 minuti per parlarti, senza farlo cadere, di questo Reolink Questo è un accessorio che volevo assolutamente sul VM Sin dall'inizio sapevo che l'avrei voluto Ce lo hanno anche Davide e Diana sul loro Pepe Che è questo bolide che vedi alle mie spalle E quanto sarebbe bello un camper tour di Pepe Del bolide di Davide e Diana Fammi sapere nei commenti se lo vuoi Comunque, torniamo a noi Reolink Videocamera di sorveglianza a batteria Collegamento wifi per la cellula Per l'interno del nostro VM Tu lo sai che quando ho scatoline in mano Ci dobbiamo andare a mettere in postazione Quindi andiamo in postazione, ne parliamo E poi ci rimettiamo all'opera Dai Guarda che agilità Orca Yuri Keki mi chiamavano Allora ragazzi, come tu ho anticipato Prendiamoci qualche minuto Perché ti voglio parlare di un accessorio Che assolutamente io e Laura volevamo In questa camperizzazione Ed è questo aggeggio qui Reolink Adesso ti faccio vedere di cosa si tratta esattamente Reolink Intanto te lo dico subito Così fughiamo ogni dubbio E lo sponsor di questo video Come dico sempre Meno male che ci sono gli sponsor E aggiungo No sponsor, no video Quindi fatene una ragione Ovviamente Manuale di istruzioni Tutte quelle scartoffie che nessuno legge mai Anche se in verità si dovrebbe Questa è la Argus 3 Ultra Ultra perché? Perché registra e trasmette in Ultra HD È una videocamera di sorveglianza Ed è un accessorio che volevamo assolutamente In questa camperizzazione Prima di passare alla telecamera in sé Un rapido sguardo a quello che trovi nella confezione Oltre alle istruzioni Cavetto di ricarica Cinghia di fissaggio Bustina con tasselli e viti Per metterla a muro ovviamente, no? E la sua placchettina di montaggio Braccettino telescopico Non so come chiamarlo Dietro qui c'è i due fori appunto Per fissarlo a muro con i tasselli Nel nostro caso lo andremo a fissare Con due semplicissimi autofillettanti Visto che è tutto legno Come mi ha detto qualcuno È una pizzeria tirolese Vai alla grande zio Passiamo a lei Passiamo sulla Argus 3 Ultra di Reolink Che cos'è? Te l'ho già detto È una videocamera di sorveglianza Che trasmette e registra in 4K Quindi in Ultra HD Perché proprio la Argus 3 Ultra? Perché funziona a batteria Questa non ha bisogno di nient'altro Già così com'è Funziona perfettamente Però prima di passare alle specifiche tecniche Ti dico una cosa in più Non solo funziona a batteria Ma se scegli di usare Una Argus 3 Ultra di Reolink La combo include anche Il pannellino solare da 6W Pannello solare da 6W Molto molto carino Realizzato molto bene In plastica rigida Protetta qui la parte delle celle Noi non lo andremo a installare Perché non ho trovato il punto adatto E il modo adatto per fissarlo Perché andrebbe fissato anche questo Con il suo braccetto telescopico E direi proprio che non è il caso Però se tu devi fare un'installazione Invece di tipo civile Diciamo a casa, in ufficio, in negozio Dove vuoi tu È perfetto Lo orienti bene 6W Ti dà tutta la carica che serve Per far funzionare la Reolink Senza avere mai problemi di doverla staccare E ricaricare manualmente Allora come vedi La videocamera si presenta così Le uniche cose che ti devo segnalare È che qui sotto Hai due piccoli compartimenti Che sono stagni Sono protetti da questa gomma Perché ovviamente Essendo una videocamera Da sorveglianza Anche da esterno È totalmente impermeabile La Argus 3 Ultra Sotto trovi una porta USB-C Che serve per ricaricarla Dietro l'altro gommino Trovi lo slot per la microSD Perché può anche salvare Ovviamente quello che registra È il suo switch di accensione Quindi la prima cosa da fare Per metterla in funzione È mettere su on Mi sembra ovvio E infatti Si accende il leddino qui davanti L'altra cosa che devi fare Ovviamente è scaricare L'app di Reolink Seguirai una breve e semplice Procedura di installazione E di abbinamento del wifi Quindi lei deve essere connessa A un wifi Ovviamente per poterti Trasmettere al cellulare Noi nel VM Avremo un piccolo hotspot Di quelli con la sim card In questo momento Visto che ancora non è installato Ho chiesto gentilmente Di potermi connettere Alla rete internet Che Davide e Diana Hanno nel loro pepe Nel loro camion Quindi la videocamera è accesa L'app è qui La lanciamo Gli diamo qualche secondo Ed ecco che siamo in streaming Come puoi vedere Altissima tecnologia Tu in questo momento Caro il mio perlinato Sei poggiato su una scala Così invece vedi me due volte Mi vedi qua Mi vedi là Mi vedi là Mi vedi qua Non uno ma due Madonna mia Pauro a te Quindi vedi Noi possiamo vedere Il panorama Ma soprattutto Possiamo vedere Dentro il VM E quindi essere sicuri Che non ci siano I ladruncoli Molto bene Sempre da là Ovviamente hai Tutta una serie Di impostazioni Che non sto a spiegarti Sono impostazioni Tipo la luminosità Puoi cambiare il wifi Lo stato della batteria Per esempio vedi adesso È al 47% E poi hai le impostazioni Di rilevamento E di allarme Perché? Perché puoi impostare Questa videocamera Per fare in modo Che in caso di intrusione In caso di rilevamento Di movimento Lei ti invì Un alert Sul tuo cellulare Sempre per questo motivo Lei deve essere Costantemente connessa A un wifi Con uno di quegli hotspot Portatili Le famose saponette Crea una piccola rete internet Nel tuo camper Se lo vuoi usare nel camper Però oltre a crearti Dell'alert Tu puoi ovviamente Monitorare In qualsiasi momento Quella che è la situazione All'interno Del tuo camper Del tuo negozio Del tuo ufficio Di casa tua Della tua villa al mare Beato te Ma oltre a questo Hai la possibilità Di accendere Un faro led Vedi? Vengo Accendo Questo perché magari Tu vuoi vedere Cosa fanno i tuoi cani Nel camper Mentre è notte Da remoto Ti connetti Accendi il faro led E vedi Pinco Che cammina sui divani Sul tavolo Sul letto Eccetera eccetera Un'altra cosa Che puoi fare Per fare gli scherzoni Ai gatti Ma soprattutto A quei furbacchioni Dei ladruncoli Quando li becchi in azione A parte che lei Se la imposti bene Lo fa in automatico Ma se gli vuoi far prendere Un bello spaghettino Tac Gli dai una botta Di allarme Così magari ci pensano due volte Quindi questa è la panoramica Sulla Argus 3 Ultra Ti faccio vedere Qual è l'idea di posizionamento Qui noi avremo Il pensile della cucina Che arriverà più o meno Qui L'idea è quella Di posizionarla qui Ok? Indicativamente In modo da poter visionare L'ingresso E anche la finestra Così si monitora anche La zona di net Per vedere quello Che combinano i cani Raga questa era La panoramica generale Su Argus 3 Ultra Di Reolink Registrazione a 4k Connessione da remoto Archiviazione Su scheda SD Alimentata a batteria Ricaricabile USB-C Oppure alimentabile Con il suo pannello solare Da 6 watt Che viene venduto In combo L'ultima cosa Che ti devo dire Come al solito È il costo Di questo kit Siamo sulle 130 140 150 euro Che devo dire Eppure essendo sempre Tanti soldini Perché io ho ben chiaro Il valore dei soldi È comunque Un prezzo onesto Un prezzo in linea Con quello che offre Perché comunque Pannellino solare La videocamera Che comunque Ha anche il costo Della batteria Integrata eccetera Quindi mi sembra Avere un prezzo Accessibile Ovviamente Tieni d'occhio il sito Perché spesso Ci sono delle offerte Il link per acquistarla Te lo lascio in descrizione Se ti vuoi fare un regalo Se vuoi fare un regalo Mi sembra un'ottima idea Ma soprattutto Se vuoi dormire Sonni più tranquilli Oppure Puoi stare un po' più tranquillo Quando parcheggi Il tuo mezzo Che ti vai a fare una gita Un'escursione Vai a visitare una città Ti compri un kit come questo Lo installi È chiaro che non puoi scongiurare Il rischio che qualche malandrino Faccia il malandrino Però almeno Qualcosa in più Per poter reagire Tempestivamente Io ti ho raccontato tutto Della Argus 3 Ultra Di Reolink Adesso È il momento Di metterci a lavorare Perché come tutti i giorni C'è molto da fare E il tempo stringe Perché Davide Tra poco Se ne va Daglie Torniamo a noi I cuccioli Guarda qua Ho dato una spruzzata al tubo Vedi Com'è più bello Nero è tutto più bello Anche perché come dice Il detto del grande saggio Once you try black You never come back Quindi Vedi tu Adesso Ho posizionato Il top Del vano bombola E adesso lo andiamo a fissare Ti faccio vedere Così poi Se no Non ti la metti Non mi fai vedere niente E' eccitante Vedermi avvitare le viti Non credo Però se ti fa piacere Te lo faccio vedere Ci mancherebbe altro Adesso cosa ci resta da fare Avevamo pensato di aggiungere Un montante qui In modo da avvitare questo Anche da sotto E farlo stare Bello tirato Ma non è che fletta così tanto Qui sopra Tra l'altro Non poggia niente Quindi potrebbe bastare Quello che resta da fare Sono un paio di sigillature Che non potevo fare Finché non c'era Il pannello superiore montato Allora vedi che Tutto 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 sigillato Mancano Una Due Qui sopra Tre E quattro Allora Facciamolo subito Dai Allora Allora è arrivato anche il buon Dave Allora ti ho fatto vedere Che ho messo il tubo no Allora adesso c'è da mettergli Una retina Non è che possiamo Lasciarlo così Aperto Abbiamo recuperato Questo pezzettino qua Di rete metallica Guarda che bello Siamo quelli che fa le rapine E gli abbiamo fatto Una piccola flangia Questa la mettiamo sotto Quindi adesso ti faccio vedere Come procediamo Intanto carteggiamo un pochettino questa Bene Quindi abbiamo la nostra flangia Questo è un pezzetto di okume Da 8 mm Avanzato sempre dal sottofondo Raga Se fate una camper conversion Se fate una roba Una cazzata Come l'ho fatta io Insomma Fala breve Fino a che non hai finito Non buttare via scarti Scartini Non buttare niente Che noi stiamo recuperando Di tutto di più Anche perché poi Finiscono i soldi Quindi tutti gli scarti Vanno benone Adesso a questa flangia Ci attacchiamo Un po' di rete metallica Ovviamente prima La dobbiamo tagliare Diciamo Più o meno Su misura Vediamo se queste forbici Ce la fanno Come bubo Come bubo Tac Eccola qua Guarda che forbici Tac Questa praticamente La dedico a Giovanni Mucciaccia Guardi Questo è un art attack E la mettiamo qui Adesso Come la facciamo stare Qui Bella intenzione Con quattro punti Con la spara punti Che vado a prendere Wow Perfetto raga Guarda qua Non so Mi sembra Non lo so Cosa mi sembra Adesso Con sempre Le nostre magiche forbici Andiamo a rimuovere L'eccesso Lo rimuoviamo Così Tac Tac Così Guarda che lavoretto Magico Magico Adesso qua Gli facciamo Un giro di Sicaflex E poi gli facciamo Quattro fori Per quattro viti Quando la vita Arriva su Comincia a tirare Sicaflex Si schiaccia E fa da una specie sigillatura Poi dopo Col pennello Gli andiamo a dare Un colpo di gomma liquida Che siamo in bolla Prima cosa Una bordatura Di Sicaflex Perché siccome Questo qui È un pelo Piccolino Così quando ci scorre dentro Si impregna Col Sicaflex E fa un po' di sigillatura Il buon day Va preparato Quattro fori Sulla nostra flangia Da battaglia Adesso Lato retina Gli facciamo Un bordino a filo Proprio di Sicaflex Così poi Avvitando Come ti ho già detto Va a schiacciare Tipo Effetto guarnizioni Capito Poi tagliamo Un altro quadratino Di rete E lo andiamo a mettere Lato interno Perché ovviamente Anche internamente Ci vuole la rete E vai Con liscio Guarda che ti faccio vedere Il buon Dave Come mi sbuca Dall'underground Eccolo qua Sistema sandwich Lo possiamo chiamare Una cosa che schiaccia Una cosa che schiaccia Un'altra cosa E da cosa Nasce cosa Giusto da Giusto La nostra retina È in the press to be E gli infiliamo il tubo Vedi vedi come fa Se lo porta dietro Così fa un po' di tenuta Adesso becchiamo L'incavo giusto Eccolo qua Perfetto Vedi Vabbè si sporge un po' Perché non l'ho tagliato Perfetto Ma chi se ne frega Posto Basta Tanto questo Deve stare così Va bene così Tanto poi viene nascosto Dal famoso tappetino Antivibrante Quello lì Che schiacca Va bene Guarda te lo faccio rivedere Tac Quindi così è la situazione Sopra E così è la situazione Sotto Vedi La nostra flangia Due pennellate Di gomma liquida Basta Dove devi andare Siamo in bolla Task completata Mi vado a mettere Il cappello Quello brutto Quello che ti piace tanto La giacca Perché si congela Adesso E continuiamo È sceso il freddo Ragazzi È sceso il freddo Allora Mentre Davide Sistema una robina Che non gli quadra Che è un perfezionista Abbiamo finito Il vano bombola Davide ha messo Anche l'ultimo profilino Di legno Che mancava Adesso è arrivato il momento Di testare La parte di impianto elettrico Diciamo da esterno Da colonnina Quindi facciamo una simulazione Come se fossimo Attaccati alla rete elettrica Del campeggio Oppure qui Quando siamo fermi a lavorare Siccome qua Dove abbiamo il VM Non abbiamo la corrente Dobbiamo fare finta Che lo sia Ma dobbiamo usare La bluetti Sempre Cioè usciamo dall'inverso Della bluetti E ci colleghiamo Alla presa Non ti confondere Questa non ha niente A che vedere Con la questione Impianto elettrico Con power station Qua stiamo solo simulando La corrente Da colonnina Quindi niente Adesso facciamo Questo test Cerchiamo di capire Se arriva corrente All'impianto Quindi proviamo Le due prese Che abbiamo già montato E cerchiamo Soprattutto di capire Se abbiamo la 12 volt La 12 volt Ce l'avremo Grazie a questo aggeggio qua Il magico Questo si accenderà E ci darà la 12 volt Se tutto funziona Correttamente Ti ricordi Te l'ho fatto vedere L'altro giorno Con il potenziometro Per regolare Esattamente i volt Oh raga Se fa il botto È stato bello Attacchiamo la spina Ok Accendiamo la nostra AC200 max Accendiamo La parte inverter Ecco qua Innanzitutto Selettore Commutatore Sull'1 E ce l'abbiamo E abbiamo la corrente Ah lì non c'è La corrente Però No 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 C'è 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 Quella presa lì È quella che darà corrente Al trasformatorio Quindi adesso Tirando su Il generale Presumo No E girando il commutatore Su 1 Quindi sull'esterno Questo si dovrebbe accendere Tac Tac Adesso si accende il display 13 Noi siamo in bolla Adesso noi giriamo su 1 Anche il 12 volt E adesso dovremmo avere La luce Vediamo luce in gra Ecco qua Ecco qua Cioè hai capito com'è la situazione Praticamente noi avremo La 12 volt Anche se La power station Proprio non c'è fisicamente Nel camper Cioè Dovesse succedere un po' Questa power station La dobbiamo tirar fuori Per un qualsiasi motivo Se ci attacchiamo Alla colonnina Abbiamo la 12 volt Grazie Al magico Quindi La luce ingresso va La luce esterna è accesa Vediamo che consumo abbiamo Tenendo conto Che sta andando anche L'inverter Zero Talmente basso Che non ce lo dice neanche Ah guarda Adesso ha attaccato Il faro halogeno E infatti 162 watt Adesso Quindi raga Il test è funzionato Dimmi solo Se sei soddisfatto Molto Del tuo operato Molto Bene Si è anche sbilanciato Ho parlato pure La telecamera Guarda guarda lo switch Vai fammi sognare Ti ricordi ieri invece Ieri lo mettevamo su 2 Perché su 2 È la 12 volt Da power station Oh io spero Che insomma Il discorso impianto elettrico Ti sia un pochettino Pochettino chiaro Bene Adesso sai cosa facciamo Posizioniamo finalmente Il caricabatteria Della bluetti E posizioniamo Sia la AC200 max Che la B230 Facciamo il collegamento E ti faccio vedere Il look Quasi definitivo Dai Guarda guarda che la prima parte Di impianto È in posizione giusta Diciamo Guarda Tac Guarda che ordine Fantastico AC200 max Questo è il cavo Da 12 volt 30 ampere Che porta la 12 volt A tutto l'impianto Infatti vedi che adesso Lo switch della 12 volt È su posizione 2 2 vuol dire interno Cioè sorgente interna Quindi sorgente power station Infatti il magico è spento Infatti il magico è spento Adesso nello spazio libero Qui a sinistra Della 200 max Andiamo a posizionare La B230 Dai Ci siamo raga Ti faccio vedere Quest'ultima cosa Poi per oggi abbiamo finito Anche perché adesso Sta arrivando il polacco Raga Uno che viene a prendersi La 500 rotto Vabbè Lascio stare Questa è tutta un'altra storia Guarda Guarda la combo AC200 max B230 Questa è l'espansione di questa Raddoppia I kilowattora Quindi da 2048 A 4096 Trasformatore Per ricarica da 220 Sta qui Questi sono i tappetini Antivibranti Delle lavatrici Sotto l'espansione Ne andremo a mettere due Perché abbiamo bisogno Di recuperare Un centimetro di aria Qui di luce Qui invece ne andremo A mettere uno solo L'unica cosa Che resta da fissare A parte le cinghie E questo qui Che lo metteremo qui A parete Sul fianco Che è il trasformatore Questo è il suo cavo atomico Di connessione Purtroppo è un cavo Molto ingombrante E quindi deve restare così Benissimo raga Anche oggi Una giornata produttiva Sono molto contento Però purtroppo Ti devo dire una cosa Anche oggi Una giornata in meno Prima della partenza Di Dave E quindi questa cosa Un po' mi strugge Poi è partita pure Laura Andare pure a lavorare Insomma Una giornata in merda Fondamentalmente Dai parliamoci chiaro E invece no Abbiamo fatto un sacco di cose Anche oggi Anzi Dave ha fatto un sacco di cose Io ho lavorato poco e niente oggi Per oggi basta così Ci vediamo sicuramente domani Non so se ancora in questo video O se in un altro video Però ci vediamo sicuramente domani Ok Bella lì Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti